Buon fine settimana ragazzi, buon weekend a tutti! Per un caffè ragazzi, è un mezz'ora che devi bere un caffè Esatto, posso assentarmi per questa rubrica, cos'è? Cos'è adesso? È il momento degli eventi! Ah, una cagata! Vosti, il programma del weekend, non è vero! In giro per il mondo! Gli appuntamenti da non perdere, vai dai! C'è la felicità che sta bussando alla porta! Lasciala fuori, no, lasciala fuori! Funga da andarsene! Appena qualcuno bussa, ecchile! Ragazzi, gli eventi nel mondo! Cosa facciamo stasera? Eventi da tutto il mondo! Prego, 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 prego! Iniziamo subito! Domani pomeriggio, da qui sgrana, sagra del boomerang di miele! Interessante! Bellissimo! È bellissimo vedere i lanci, la difficoltà dei lanciatori, ma soprattutto quante mosche! È bellissimo! Se siete ancora in piena di viaggiare, martedì prossimo, vieni anche tu ad assistere al grande rally delle pulce, delle pulci, il grande rally delle pulci, in programma a Bilibolo, Bilibolo, nell'Umbria del Sud! Ci saranno tutti i più grandi campioni che si affronteranno un percorso mozzafiato pieno di curve e peli di cane! E finalmente arriva giovedì, ci vediamo tutti alle giostre a Mapedu, nelle Fiandre Bolognesi, che sarà il calcio in culo più grande del mondo, 89.000 seggiolini, raggio di rotazione di 6 km, ci sono previsti anche gli attacchi di Condor, per rendere più interessante! E per vincere un giro devi afferrare un gorilla che fa cucù da una piattaforma! Ok, bravissimo! Dai ragazzi! Bello! Bellissimo! Tutti! Nelle Fiandre Bolognesi! Sì, Mapedu! Basta così? Non lo so! È l'estate! Bisogna tenere da parte i soldi! È andata benissimo! Ragazzi, benvenuti! Molto bene con i Camillas!